Ciao, oggi sono a Lanciano, in pieno centro. Come vedi alle mie spalle il campanile di Sant'Antonio, ci troviamo vicino alla Villa Comunale, proprio qui per farti vedere un appartamento. È un immobile un po' particolare ed è per questo che oggi ti chiedo un piccolo sforzo, quello di attivare la tua immaginazione e io ti aiuterò a vedere e accogliere i punti di forza di questo appartamento. Andiamo! Siamo al secondo piano con una parabosina in quarto piano e immediatamente, subito vicino al Asciansole, troviamo il nostro appartamento. Ad accoglierci troviamo questo ingresso che ci avvolge con le sue mura rotundate. Proseguendo troviamo questo immenso salone molto ampio e minoso con la pace esterna. La zona al giorno prosegue con la cucina abitante che ha il suo operanzino. uno dei punti di forza di questo immobile sono proprio gli spazi grandi queste stanze grandi oggi difficili da trovare un altro punto di forza è la presenza di questi sbocchi esterni l'avvenibilità di questi terrazzi e l'affaccio sul verde, sulla lacuna speroste meravigliosi colini nel nostro barco e da qui entriamo in questa che è la zona notte dove troviamo due camere da letto matrimoniali, due bagni, uno con la doccia e l'altro con la vasca una di queste camere anche su un meraviglioso terrazzo guardate queste stanze vuote, le pareti appena rinfrescate vuol dire proprio da pensare che è ideale per te che cerchi una soluzione da personalizzare una casa da vendere tua secondo le tue necessità siamo giunti al termine della nostra video visita e per farti un riassunto di quello che ti ho mostrato ho scelto uno dei tre meravigliosi terrazzi che compongono l'appartamento oggi ti ho mostrato, sì, proprio un appartamento al secondo piano di una palazzina di quattro piani in pieno centro a Lanciano l'appartamento si compone di un ingresso, di un salone con terrazzo di una cucina abitabile con terrazzo e di due camere da letto matrimoniali e di due bagni, uno con doccia e uno con vasca la proprietà si completa con una cantina nel semi interrato e un posto auto al coperto consiglio questo appartamento a te che desideri vivere con la tua famiglia in ampi spazi sia interni che esterni a te che vuoi avere tutti i servizi a disposizione perché veramente ci troviamo in una zona centralissima dove trovi scuole, negozi ti aspetto in agenzia perché desidero veramente mostrarti l'immobile di persona e adesso ti invito a mettere un like a questo video e ad iscriverti al nostro canale YouTube in modo che potrai vedere in anteprima tutte le nostre proposte non mi resta che salutarti e dirti gabetti e sei già a casa ciao ciao